Perché in questo momento stiamo facendo cose diverse, stiamo facendo cose diverse perché io mi occupo un pochino più di musica, siccome anche da ragazzo ho suonato, quindi ho ripreso in mano gli strumenti, diciamo... Beh, io passo da rock alla lirica, cioè canto, cantavo anche lirica, quindi sai, passo da rock alla lirica, faccio dei pezzi delle zeppelin cantando di rock, cantandoli lirici, cioè, anche per cui facevo per ridere un'imitazione di Pavarotti, quindi c'è una certa, sai, una certa somiglianza, no, e ho preso più questa strada, mentre a lui piace scrivere, è bravo a scrivere, quindi ha scritto già un libro di racconti, adesso sto facendo un libro di poesia, quindi io sono bravo a cantare, quindi... E dove avvengono queste performance? Ma dappertutto, perché, per esempio, sabato sono a Let's Go, a Let's Go a Ozzano, quello che era di Malantina e Veronica, adesso loro non ci sono più, faccio uno spettacolo fra il cabaret e musica, per cui mi travesto, faccio delle forlie, ma principalmente mi diverto, e quando l'ho fatto di solito si è divertita anche la gente, perché penso che sia... Mi diverto io di solito... E' importante trasmettere la musica... No, poi sai, la musica, io poi ci gioco, prendo delle cover, le trasformo, le canto, le faccio cose... E c'è anche il gemello? No, 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 questa è proprio una cosa mia da solo, mia da solo, sono io e basta, non è... Poi niente, un po', faccio spettacoli in giro anche da solo, proprio da musica, facendo anche feste di cabaret, faccio dei personaggi di folli, ho inventato delle cose nuove... Grazie